costantino vitaliano irriconoscibile che cosa è successo al tronista di uomini e donne più amato di sempre le ultime news hanno tenuto in apprezzione i suoi fan nel mondo il sex symbol nostrano degli anni 2000 ha scioccato tutti quanti nessuno infatti si aspettava un simile cambiamento a tenere con il fiato sospeso sono state le sue condizioni di salute che cosa è dunque successo a costantino che è stato amatissimo da milioni di donne e non solo classe 1974 il milanese se l'è vista veramente brutta da troppo tempo lontano dal centro del gossip ma mai dimenticato le fan stavano iniziando veramente a temere il suo ritiro definitivo e invece ecco che all'improvviso l'ex tronista come un fulmine a ciel sereno è tornato a far parlare di sé l'occasione è stata una recente intervista rilasciata al quotidiano il corriere della sera è così che la verità è stata svelata e l'ex di alessandra pierelli ha fatto il punto sul suo stato di salute come era già trapelato il sex symbol sarebbe affetto da una patologia che per un lungo periodo lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo e dalla vita pubblica scopriamo assieme di che cosa soffre l'uomo costantino vitaliano nuova vita trasformazione incredibile pare che costantino negli ultimi mesi abbia perso molti chili il suo corpo infatti sembrerebbe aver risentito molto della malattia che lo ha colpito ma l'uomo ancora oggi nonostante tutto rimane un sex symbol la forza che trapela dalle sue parole sembra donargli un fascino ancora più irresistibile assai diverso da quando ha conquistato il cuore di milioni di fan l'attore che del suo corpo ha fatto il suo cavallo di battaglia per il successo è stato costretto a fare i conti con i problemi di salute tutto è accaduto all'improvviso e pare senza nessun cenno davviso è stato durante un controllo che è arrivata la diagnosi nefasta l'ex tronista sarebbe dunque affetto da una patologia autoimmune che causa problemi ai vasi sanguigni attualmente sembra che le cure a cui si è sottoposto stiano dando i loro effetti benefici ma il suo aspetto è notevolmente cambiato il sex symbol oggi perciò appare notevolmente più magro rispetto al suo momento d'oro infatti ha dichiarato di aver perso 20 kg ancora tanto richiesto i tempi in cui anche per una comparsa di un'ora del suo tempo in una discoteca prendeva più di 10.000 euro sembrano appartenere a un passato lontano l'uomo però rimane pur sempre molto gettonato anche se oggi pare fare molta più attenzione alla sua salute